Lo si vedeva sempre al porto di Agropoli, Antonio Ruocco, detto Tigre, uno straordinario personaggio molto intrigante per via del suo aspetto e per il soprannome che portava. Era il custode principe del porto agropolese e il faro di una storia tradizionale marinara. Una vita trascorsa nella marineria agropolese, appunto, tra i primi ad intuire l'importanza della creazione dei pontili nel porto, come volano del turismo nautico. Antonio se n'è andato tra le onde, quasi in silenzio, a causa di una malattia. Nel suo sguardo, apparentemente minaccioso, si celava un uomo rispettoso, altruista, dignitoso, grande lavoratore e bravo genitore. Mancherà a tutti il Tigre, mancherà un altro simbolo di Agropoli, un altro personaggio che ci ha resi orgogliosi di essere agropolesi. La redazione tutta di Cilento Channel esprime le più sentite condoglianze alla famiglia.